L'Istituto Dolce è lieto di presentare una nuova puntata della rubrica Natale nelle regioni italiche. Oggi presentiamo il Meridione. Agira è un piccolo paese al centro della Sicilia vivo di tradizioni e fervente di azione. Durante le festività i giovani siciliani si dilettano in animate discussioni. Si ride, si scherza e si agisce. Tra le attività più frequenti il gioco delle carte. Tradizionalmente i giovani puntano ingenti somme di denaro favoriti dalla dea bendata. I giochi più tradizionali sono il bestia o il 31. A fine giornata vincenti o meno il cuore è colmo di fratellanza. I nostri giovani italiani condividono la gioia delle festività con la forza nelle braccia e l'amore nel cuore. Nel prossimo cinematografo, La Padania. Una nuova introspezione sulle regioni nordiche. Viva, viva il dolce! Viva, viva il dolce! Viva il dolce! Viva il dolce! Grazie a tutti.